Il VIA LIBERA Elezioni comunali presentate le candidature. Il 31 maggio si vota in 19 comuni della regione per il rinnovo dei consigli e per scegliere i sindaci. Occhi puntati su Montenero di Pisaccia, il centro più grande dove si va alle urne. Il VIA LIBERA Fondo Valle Sangro interviene la regione Abruzzo. Grazie allo sblocca Italia ha previsto il lavoro atteso da anni. Il tratto interessato è quello tra i comuni di Sant'Angelo del Pesco e Gamberale dopo i disagi notevoli alla circolazione. Pozzi petroliferi continua la battaglia. Ne sono stati autorizzati altri quattro per la piattaforma Edison tra Termoli e Vasto. L'allarme del forum abruzzese dell'acqua. Il senatore grillino Castaldi esorta ad uno sforzo comune per fermare le trivellazioni in mare. Playoff Juniores, la finale in diretta. La partita trasmessa su Telemolise Sport dalle 16. Il campo basso se la gioca Celano. Per la Serie D torna la sfida tra molisane e marchigiane. Buongiorno dal telegiornale di Telemolise. Dunque in apertura parliamo della ITR perché ci sono delle novità importanti. La IKF infatti alla sua seconda offerta è riuscita ad acquisire l'azienda di Pettoranello. Tra pochi giorni ci dovrebbe essere il via libera dei tribunali di Milano e Isemia. Tutti i particolari dell'offerta nel servizio di Enzo Di Gaetano. L'ex ITR ha dato il via libera all'acquisizione delle officine tessili italiane. A spuntarla è stata l'IKF SPA, fondo di investimento milanese, che fa capo a Mario Galetti. La procedura comparativa tra le proposte pervenute si è conclusa e l'offerta presentata dalla società milanese è stata ritenuta come la migliore sul tavolo. L'IKF, che aveva già presentato un'offerta nel 2014, si è dunque aggiudicata alla new co-sorta dalle ceneri dell'industria tessile di Pettoranello. Restano da definire i dettagli dei quali si discuterà nel corso di un vertice tra le parti, previsto nei prossimi giorni e che condurrà la firma dei contratti definitivi. Su specifica richiesta da parte della società OTI e della stessa ITR, per ben due volte il fondo di investimento di cui Galetti è il principale azionista, aveva deciso di prorogare i termini della scadenza dell'offerta per consentire alle parti lo svolgimento di tutti gli adempimenti procedurali necessari. Non solo all'inizio del mese di aprile, l'IKF aveva anche rilanciato la propria offerta sia sotto il profilo economico che sotto quello occupazionale. Il fondo di investimento aveva specificato di voler partire da subito con 40 unità lavorative. Dal punto di vista gestionale, la società punta a un sistema innovativo, basato sull'affidamento della produzione a cooperative, formate da ex lavoratori ITR, quali SART e stilisti, e a esternalizzare i servizi. La nuova gestione avrà solo il compito di dirigere e coordinare tutte le attività. Il KF aveva anche migliorato economicamente la prima offerta depositata, che prevedeva un affitto con opzione d'acquisto dell'azienda per un canone annuo di 100.000 euro, con durata d'affitto di 36 mesi e con opzione d'acquisto azienda al prezzo di vendita di 750.000 euro. Inoltre si era detta disponibile, alternativamente, ad acquistare la merce del residuo magazzino a un prezzo complessivo di 3.500.000 euro in 36 rate mensili, oppure a gestire la vendita di tutta o parte della merce per conto di ITR a fronte del riconoscimento di un corrispettivo proporzionale alle quantità vendute. Per la pagina amministrativa parliamo delle elezioni del 31 maggio per il rinnovo di 19 sindaci nei comuni molissani. Oggi a mezzogiorno sono scaduti i termini per la presentazione delle liste. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Sono scaduti a mezzogiorno di oggi i termini per la presentazione delle liste nei 19 comuni molissani chiamate alle urne il 31 maggio per il rinnovo dei sindaci e delle amministrazioni. A Bonefro il sindaco uscente Luigi Montagano scende di nuovo in campo con la lista Progetto Bonefro Impegno per il Futuro. Gli altri candidati sindaco sono Claudia Lalli, sostenuta dalla lista Impegno Comune per Bonefro, Nicola Giovanni Montagano appoggiato dalla lista Uniti per Bonefro. A Cerce Piccola sindaco uscente Michele Simiele, tre candidati alla carica di sindaco, Michele Nardacchione con la lista Insieme Tracciamo la strada, Alessandro Croce con la lista Prima di tutto Cerce Piccola, Maria Rosaria Nardola con la lista La Fonderia delle idee. A Casal Ciprano la sfida è tra l'uscente Eliseo Castelli, sostenuto dalla lista Crescere insieme, Nicola Barbiero con la lista Insieme per il Futuro, Monia Rossi con la lista Sosteniamo il Futuro. A Lupare il sindaco uscente Pasqualino Marinelli si ricandida con la lista Insieme si cresce. Gli altri candidati sono Angelo Varriano, sostenuto dalla lista Contè per il Paese, Salvatore Palombo con la lista Uniti per Cambiare. A Montenero di Bisaccia il sindaco uscente Nicola Travaglini si ripropone con la lista Uniti per Montenero. Gli altri candidati sindaco Nicola Palombo con il PD, Nicola Dascanio con la lista Montenero vince, Renzo Magagnato con Movimento 5 Stelle. A Pietracatella retta dal commissario due le liste presentate, Pasquale Luciano candidato sindaco con la lista Pietracatella Cambia e Antonio Tomassone candidato con la lista Insieme per Pietracatella. Si vota Pietracupa dove il sindaco uscente Camillo Santilli. A Providenti uscente Salvatore Fucito candidati alla carica di sindaco sono Federico Silvestri con la lista Uniti per Providenti, Marianna Mustillo con la lista Insieme si può. Sei candidati invece a Roccavivara, Franco Antenucci, Mauro Tufilli, Francesco D'Angelo, Timoteo Di Girolamo, Stefano Triozzi, Luciano Torrieri. San Giuliano del Sannio, il sindaco uscente Angelo Codagnone si ripropone agli elettori con la lista Uniti per San Giuliano. L'altro candidato è Flaviano Santillo con la lista Il Coraggio di Rinascere. Quattro le liste presentate a San Polo Matese, sindaco uscente Tonino Spina. I candidati sindaco sono Armandino De Gidio con la lista San Polo nel cuore, Giuseppe Pompeo Santillo con la lista Rinnovamento, Davide Di Re sostenuto dalla lista Voliamo Insieme e Cosimo Pedicini con la lista Un Voto Giusto. In provincia di Isernia sono otto i comuni chiamati alle urne. Al momento i dati in nostro possesso parlano di sette liste a Sant'Angelo del Pesco, tre a Poggio Sannita, due a Montenero Valcocchiare. Il quadro completo dei candidati nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Intanto sul servizio di Anna Maria Di Matteo e per quanto riguarda la provincia di Isernia ci sono delle novità e vediamo le notizie che abbiamo. Ad Acquaviva di Isernia ben cinque i candidati sindaci Lenio Petrocelli, Nastasio Petrocelli, Gerardo Del Vecchio, Franco Simone e Massimiliano Iemma. A Rocca Sicura sei candidati sindaci Fabio Milano, Mario Lombardi, Antonio Caldararo, Carmen De Vito, Rocco Vizzacarro, Roberto Marzano. A Sesto Campano tre liste con questi candidati Giuliana Zampilli, Peppe Caranci, Luigi Paolone. A Pozzilli candidata Stefania Passarelli, così come a Montenero Valcocchiara, Filippo Zucchegna. A Chiauci due i candidati, Carmine Di Vincenzo e Alberto D'Andrea. A Poggio Sanita sempre due, Giuseppe Orlando e Nicola Di Filippo. Chiaro alle 19.30 vi daremo tutti i raguagli e tutte le notizie più dell'ultima ora. E adesso a Isernia dove la Giunta Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2015. Il primo, come ha detto il Sindaco, con i conti in ordine. Brasiello ha anche colto l'occasione di rispondere alle accuse di lottizzazione. Lanciategli contro da Stefano Testa, il servizio di Enzo Di Gaetano. Stefano Testa, consigliere comunale di minoranza, ha accusato il Sindaco di Isernia di aver trasformato Palazzo San Francesco in un poltronificio per la nomina di due vicepresidenti del Consiglio Comunale. Un'accusa che viene respinta da Brasiello, che dice che quegli incarichi sono a titolo gratuito. Io credo che tutti i comuni d'Italia hanno l'ufficio di presidenza. Tra l'altro non è stata almeno proposta da me la cosa, ma dal Presidente del Consiglio. Io l'ho semplicemente condivisa, peraltro, con due vicepresidenze. Una alla maggioranza e una alla minoranza, proprio per garantire la massima condivisione di tutti gli argomenti. E peraltro sono cariche assolutamente gratuite, che non costano nulla alla collettività. È un modo come un altro per coinvolgere tutti e per coinvolgere di più i consiglieri comunali in una fase delicata per il Comune di Sernia, nella quale stiamo predisponendo un bilancio importante, perché questo è veramente il primo bilancio con i conti a posto che stiamo facendo. Per cui, in questa ottica, è opportuno un coinvolgimento maggiore, anche attraverso una suddivisione dei compiti un po' più precisa. Ecco, credo che avere le vicepresidenze per quanto riguarda il Consiglio Comunale sia un fatto importante. Per cui la vedo una cosa assolutamente strumentale, immaginare di istituire nuove poltrone. Non è questo il senso, il senso è quello del coinvolgimento. Lei parlava di un bilancio finalmente con i conti a posto. Che vuol dire? Sono stati ripuliti questi conti, rimessi a posto? Allora, vuol dire questo. Noi oggi, oggi è 30, abbiamo approvato il bilancio in giunta comunale. Io vengo adesso dalla giunta comunale. È stata una maratona estenuante da stamattina alle 9. Abbiamo finito 5 minuti fa e posso dire che per la prima volta con la nuova contabilità, perché dal 1 gennaio 2015 tutti gli endi locali sono passati alla nuova contabilità, che non è cosa semplicissima, posso dire che finalmente il Comune di Segna ha veramente i conti a posto. Questo che cosa significa? Che approvato il rendiconto 2014, che faremo nei prossimi giorni nel Consiglio Comunale, poi potremo programmare il preventivo 2015. E lì sarà importante, sarà importante una cosa, sarà importante prevedere un abbassamento delle tasse dei nostri concittadini. Noi un anno fa dovemmo fare una scelta esattamente opposta, cioè quella di aumentarle proprio per mettere a posto i conti. Lo abbiamo fatto, abbiamo messo a posto i conti, teniamo fede a quello che abbiamo detto e l'obiettivo è quello di abbassare le tasse. Oggi in migliaia i fedeli della diocesi di Isernia e Venaforo che sono stati in udienza da Papa Francesco, il quale si è rivolto a loro alludendo scherzosamente a Celestino V, che si dimise tornando a fare l'eremita in Molise. Dal momento in cui sono entrato ho visto la vostra gioia, ma siete gioiosi voi? Eh, ha detto Francesco. Siete gioiosi? Aggiunto, adesso capisco un po' perché Papa Celestino non si trovava bene a Roma ed è tornato da voi per la vostra gioia. Ha sottolineato tra gli applausi il Pontefice che già nella sua visita ad Isernia lo scorso 5 luglio fu accolto con calore e affetto dalla comunità. Infine un appello per invitare a Bruzzemolise ad andare avanti con coraggio, a vincere le sfide del momento, sostenendosi e aiutandosi l'un l'altro. I problemi, è stato detto, si superano con la solidarietà. Cambiamo argomento, ci sono delle novità per la Fondovalle Sangro. Grazie allo Sblocca Italia, infatti, la Regione Abruzzo ha deciso di effettuare un intervento atteso da anni del tratto mancante tra i comuni di Sant'Angelo del Pesco e Gamberale, il servizio di Sergio Di Vincenzo. Dopo l'intervento tampone dell'ANAS, che ha permesso di eliminare buche e dossi, arrivano altre importanti novità per la Fondovalle Sangro. Grazie allo Sblocca Italia, non solo sono stati trovati fondi per ammodernare e mettere definitivamente in sicurezza la superstrada, ma è stata individuata anche la soluzione tecnica per la realizzazione degli svincoli nel tratto fra Sant'Angelo del Pesco e Gamberale. Una novità rilevante, perché di fatto, dopo decenni di attesa, consentirebbe agli automobilisti di usufruire completamente della statale 652, ossia di quel collegamento diretto tra le aree interne abruzzese e molisane e il mare Adriatico, oltre che rotta privilegiata per le relazioni commerciali tra l'area industriale della Val di Sangro e la Campania. L'annuncio è stato dato dallo stesso presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, durante un incontro al quale hanno partecipato i sindaci dei comuni interessati, i rappresentanti dell'ente stradale e i presidenti delle province di Chietia e Sernia, Antonio Tamburrino e Luigi Brasiello, a sua volta accompagnato dal consigliere delegato alle infrastrutture Mike Matticoli. Si dovrebbe arrivare al dunque in tempi ragionevoli, visto che lo sblocca Italia impone di fare in fretta. Già a metà maggio ci sarà un nuovo incontro tra gli enti coinvolti per limare gli ultimi dettagli, in modo da presentarsi alla conferenza di servizi con tutte le carte in regola. L'ANAS dovrebbe convocarla alla fine del mese, proprio durante questa riunione, dovrebbe essere approvato il progetto definitivo, l'ultimo atto prima del via libera ai lavori. Adesso la cronaca. I carabinieri del comando provinciale di Sernia hanno arrestato un pregiudicato per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'uomo di 32 anni di sesto campano, dopo aver aggredito la compagna, l'ha tenuta segregata in casa impedendole di uscire per alcune ore. La donna è riuscita comunque a contattare i militari che sono intervenuti, arrestando l'uomo che è in carcere a di Sernia. In casa aveva oggetti e materiale provenienti da furti. La rifurtiva, del valore di migliaia di euro, è stata sequestrata e poi essere restituita ai proprietari. Ed è di 91 arresti il bilancio dei controlli fatti ieri dai carabinieri di Roma in occasione del primo maggio e per il concertone in piazza San Giovanni. Tra gli arrestati per droga vi sono 40 stranieri, per lo più di origine nord-centroafricana, e 20 italiani, alcuni dei quali in trasferta nella capitale per spacciare droga. Tutti in realtà compresa tra i 19 e i 50 anni. Tra loro ci sono anche dei molisani. Sono stati autorizzati 4 nuovi pozzi per la piattaforma Edison tra Termoli e Vasto. Il Forum Abruzzese per l'Acqua lancia l'allarme per l'aumentato rischio, trivellazioni e invita le popolazioni alla mobilitazione. Il servizio di Manuela Iorio. La piattaforma Rospo Mare della Edison, che si trova a 11 miglia a largo tra Termoli e Vasto, presto potrebbe ampliarsi. Qualche giorno fa, infatti, i Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali hanno dato il via libera a 4 nuovi pozzi. A renderlo noto, il Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua, che invita i cittadini alla protesta e le istituzioni a fare ricorso entro 60 giorni per impugnare il decreto passera che ha rilanciato i progetti inizialmente bloccati dall'ex ministro Prestigiacomo. La decisione, la dice lunga, sulle intenzioni del governo Renzi di regalare ai petrolieri il futuro del mare Adriatico a scapito degli interessi dei cittadini e dell'economia locale, fanno notare i componenti del Forum. A queste autorizzazioni ne seguiranno altre. Nelle ultime settimane il Ministero dell'Ambiente ha dato, o si accinge a dare il proprio parere positivo, a una decina di nuovi pozzi destinati alla ricerca o all'estrazione di petrolio, tutti entro le 12 miglia. C'è la richiesta per un pozzo esplorativo a 7 chilometri dalla spiaggia di Ortona. C'è poi il progetto di Ombrina Mare con 4-6 pozzi di estrazione a 6 chilometri dalla costa di fronte a San Vito Chietino. Infine, Rospo Mare, Società Edison, 3-4 nuovi pozzi di estrazione a 20 chilometri dalla costa tra Vasto e Termoli. Ecco perché il Forum Abruzzese invita la mobilitazione cercando di coinvolgere anche il vicino Molise, un territorio che è stato definito sarà presto sotto assedio dal punto di vista delle trivelle. Stando infatti a uno studio effettuato, il 28% del territorio regionale è stato già dato in concessione e tra permessi per l'estrazione o la ricerca di idrocarburi già accordati e istanze da valutare si sale al 65%. Secondo i dati del rapporto, alcuni procedimenti riguardano aree molto grandi e che ricadono anche nei centri urbani di Isernia, Campobasso e Termoli. Una battaglia comune per fermare le trivelazioni nel mare Adriatico. Così il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi intervenuto a Termoli dove ha parlato anche del referendum previsto in Croazia. Il servizio di Fabrizio Occhionero. Da vasto a Termoli il Movimento 5 Stelle scende in campo per protestare contro le trivellazioni in Adriatico. Una scelta non casuale quella del lungomare per ribadire una battaglia comune e coinvolgere i cittadini su un tema che hanno spiegato gli attivisti riguarda tutti. All'iniziativa ha partecipato anche il senatore Gianluca Castaldi. Bisogna dirimere le trivellazioni. Questi non possono fare il comodo a loro in casa nostra in un mare chiuso dentro un mare altrettanto chiuso che il Mediterraneo. Come cittadini sappiamo ben poco. È una battaglia comune di tutta la costa Adriatica sia dalla sponda italiana che in quella croata dove ci sono molte richieste di concessione. Non si guarda solo in Italia ma anche a quello che sta avvenendo in Croazia dove sono previsti nuovi investimenti. In Croazia è previsto un referendum da qui la necessità di informare veramente la popolazione di cosa avviene quando si trivella come funziona i benefici se ci sono ma secondo me non ci sono. Abbiamo un esempio in Italia che è la Basilicata che doveva essere il Texas d'Europa la regione più povera d'Italia quindi i vantaggi per i cittadini sono parello zero. Presenti tra gli altri consiglieri regionali Patrizia Manzo e Pietro Smargiassi e il consigliere al comune di Termoli Nicola Di Michele. Bisogna far cadere questo governo ha osservato Castaldi lo sblocca Italia ha limitato la forza delle associazioni locali dei comitati dei municipi e delle regioni perché aggiunto si passa direttamente dallo Stato e quindi è difficile intervenire. Abbiamo comunque come arma gli emendamenti gli emendamenti su qualsiasi decreto sarà possibile inserirli sai non è che puoi fare emendamenti che non c'entrano con il decreto però quando sarà possibile noi saremo pronti siamo pronti con Legambiente con Greenpeace che ci danno una mano ci sostengono e ci danno anche delle dritte per emendare i decreti cercando di mettere il bastone tra le ruote a questa trivellazione selvaggia. Nel pomeriggio alle 17 nella chiesa di Sant'Antonio di Padova a Campobasso i funerali di Antonio Molinari noto imprenditore e soprattutto presidente del Campobasso Calcio negli anni d'oro sotto la sua presidenza lo ricorderete la squadra al subli conquistò la Serie B. Ieri in inaugurazione di Expo ci sarà anche il Neuromed di Pozzilli l'istituto di ricerca presenterà infatti i risultati di una serie di studi scientifici sulla dieta mediterranea raccolti in un quaderno che si propone di dare ad un pubblico il più vasto possibile consigli utili sulla corretta alimentazione. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. All'Expo di Milano non poteva non esserci il Neuromed di Pozzilli gli studi scientifici condotti sulla dieta mediterranea in particolare quelli incentrati sul progetto Molisani hanno infatti portato alla pubblicazione di un quaderno che risponde ai quesiti basilari su questo tipo di alimentazione e sui corretti stili di vita concetti perfettamente in linea con il senso dell'esposizione universale. Tra i principali sostenitori di questo lavoro c'è Giovanni De Gaetano direttore del Dipartimento di Prevenzione. Il primo appuntamento è per domenica 10 maggio insieme a dei produttori e degli imprenditori molisani come la pasta della molisana e presenteremo dati del progetto molisani riguardanti la dieta mediterranea con proprio un contributo diretto locale del Molise a questa grande manifestazione internazionale. Noi abbiamo sempre pensato che un dato che non viene diffuso non è neanche un dato quindi è inutile fare ricerca se non la si spiega alla gente. Alla presentazione del volumetto ha partecipato anche Mario Mancini docente della Federico II di Napoli e collaboratore del professor Keys e degli altri ricercatori americani che nell'ultimo dopoguerra scoprirono gli effetti benefici della dieta mediterranea. Giunse a Napoli incuriosito dalla notizia che aveva avuto che a Napoli nel dopoguerra c'era pochissimo infarto del miocardio e lui volle capire perché e dopo essere stato qualche settimana a Napoli presso l'Istituto di Fisiologia Umana diretta dal professore Bergami che l'aveva invitato si rese conto che una delle condizioni più importanti per questo benessere della salute era il tipo di alimentazione che si faceva nella Campania nell'Italia meridionale. Alla realizzazione del quaderno ha dato il proprio contributo anche la ricercatrice Maria Laura Bonaccio tra l'altro premiata di recente dalla Fondazione Veronesi per uno studio sul rapporto tra crisi economica e dieta mediterranea. Sono sempre meno le persone che aderiscono a questo modello alimentare e noi sosteniamo pensiamo almeno i primi dati ci suggeriscono questo che ci sia un ruolo della crisi economica in questo abbandono progressivo della dieta mediterranea tant'è che abbiamo registrato un calo nell'adesione a questo modello a partire dal 2007 che è un po' l'anno critico per l'economia mondiale che probabilmente ha segnato una sorta di spartiacque nell'adesione alla dieta mediterranea. domani a Colle Danchise il consueto appuntamento con Rupert Yard Mai tradizionale manifestazione realizzata dai giovani del paese in collaborazione con l'amministrazione comunale storia tradizione e canti popolari nella festa nata per propiziare il nuovo raccolto l'evento avrà inizio dalle 10 in piazza Europa. Le esperienze di due ragazzi dislessici sono state al centro di una giornata di studio sui disturbi dell'apprendimento organizzata a Guiornesi e Larino per noi c'era Fabrizio Occhionero. Una giornata sulla dislessia per approfondire insieme agli studenti alle famiglie e le comunità del territorio un tema rilevante che richiede conoscenze e competenze disturbi connessi agli apprendimenti scolastici di base lettura scrittura e calcolo due gli eventi organizzati dalla sezione di campo basso dell'associazione dislessia e da Lions Club di Larino il primo alla scuola secondaria di Guglionesi dove si è svolto un incontro con Filippo e Vittoria due ragazzi dislessici e studenti universitari nonché autori di due libri intitolati Devo solo attrezzarmi. Per me la dislessia è stato un mi ha aperto completamente un mondo io sono dislessico discalculico e disortografico vengo da Firenze faccio parte dell'associazione Pillole di Parole sono uno dei fondatori dell'associazione Pillole di Parole di Firenze che è un'associazione che lavora sul territorio fiorentino e aiuta i ragazzi con DSA perché noi stessi abbiamo questi disturbi specifici dell'apprendimento a superare le loro difficoltà i disturbi specifici dell'apprendimento visti dunque non solo come un ostacolo ma anche come un valore aggiunto è chiaro che è fondamentale il ruolo della scuola nel senso che avere un buon docente aiuta però non si può essere sempre fortunati e nel caso quindi può capitare di trovare un docente poco preparato o meno avere un amico o un'amica con cui supportarsi è fondamentale in più il ruolo della famiglia è basilare e quindi è importante che le persone più care i genitori in primis accettino e comprendano esattamente cosa sia un disturbo specifico dell'apprendimento Filippo e Vittoria sono stati protagonisti anche dell'incontro che si è svolto al palazzo ducale di Larino sono intervenuti tra gli altri Angela Vitiello presidente del Lions Club e il sindaco Vincenzo Notarangelo l'evento è stato moderato dalla responsabile dell'AIDE referente per il libro parlato Lions Graziella Vizzarri ha un senso molto importante sensibilizzare tutti le famiglie l'opinione pubblica le istituzioni e i giovani i ragazzi coloro che si vivono questa caratteristica e che insieme a loro frequenta appunto la scuola Prima di salutarci l'appello per una cagnolina che si è smarrita in contrada a selva a campo di pietra la vedete nelle immagini è di taglia piccola indossa una collare viola con disegni neri chiunque ne abbia notizie o l'abbia trovata può come sempre contattare la nostra redazione bene con la nostra informazione è tutto adesso le previsioni del tempo poi lo sport noi ci vediamo intorno alle 15 con l'edizione flash grazie per l'attenzione arrivederci grazie per la visione